Come vedete ci troviamo allo sbocco del casello autostradale della 18 su della Messina Catania. Siamo con Saro Trischitte e Francesco Puglisi. C'è stata una serie di proteste per quanto riguarda la situazione dell'autostrada dopo i morti, soprattutto quello del poliziotto di Santa Teresa di Riva ma anche di altri morti che nel corso degli anni si sono susseguiti su questa autostrada definita appunto l'autostrada della morte. Finalmente questo problema abbastanza serio è arrivato sul tavolo del Presidente della Regione Nello Musumeci, Francesco Puglisi. Avete sentito ovviamente il Presidente ma insieme al Presidente c'era i suoi enturaggi, c'erano i tecnici, c'era anche il Presidente del CAS. Sì, c'era l'assessore regionale alle infrastrutture Falcone e c'era il dirigente del CAS Minaldi. Siamo stati ricevuti e si sono dimostrati molto disponibili e questo ci ha dato molto fiducia nel proseguo della nostra azione. Perché come avevamo noi accennato eravamo pronti per scendere in strada per fare una protesta eclatante, pacifica e civile, ma prima avevamo questo passaggio che dovevamo fare. L'abbiamo fatto e ci riteniamo soddisfatti. Quest'andata a Palermo, come dice appunto Francesco Puglisi, vi ha portato delle novità, visto che lui si ritiene già soddisfatto, doveva scendere in strada e soprattutto blocchiare l'autostrada. Questo non verrà fatto perché il Presidente quale garanzia vi ha dato? Io credo che il passaggio di Palermo era un passaggio dovuto, in quanto con il Presidente Musumeci c'erano stati degli abboccamenti prima che succedesse purtroppo l'incidente, questo ultimo grave. Ne sono successe altri, come ha detto tu, in questi ultimi sei mesi e quindi era giusto dare il tempo al Presidente Musumeci di curare questa situazione, che è una situazione di protesta che si è aggravata molto. Il discorso di Palermo secondo me è un discorso proficuo e credo che tutti possiamo ritenersi soddisfatti, ma non per quello che ci ha detto il Presidente Musumeci, perché io rilevo il mio ruolo di veste politica in questo momento, sono stato sempre vicino al comitato dal suo iniziamento, quindi li ho sempre seguiti e non in veste politica, quindi la politica non c'entra niente. Ma soprattutto perché il Presidente ha dato dei numeri, delle garanzie e un tabellino di marcia che ci darà in questi giorni, un cronoprogramma che ci darà in questi giorni, che sarà rispettato a suo dire. E se qualora non venisse rispettato, lui sarà il primo a scendere in strada insieme a noi, sarà in prima fila disposto a prendersi tutte le conseguenze del caso. Sapete benissimo che quando si va a chiudere un autostrato, a fare una protesta civile come la volevamo fare noi, siamo tutti passibili di una denuncia di interruzione di pubblico servizio. Quindi ognuno è facile stare dietro le tastiere e criticare le opere che altri fanno, per carità io condivido le idee di tutti, però poi all'atto pratico quando bisognerebbe scendere in strada e chiudere il casello diventerebbe un problema. Il Presidente ci ha detto a chiare lettere che se qualora il comitato dovesse decidere di scendere in piazza o di chiudere l'autostrada, lui insieme all'assessore Falcone saranno in prima fila a protestare contro questa porcheria. Però la cosa che più mi dà fiducia è che lui ha detto delle cose, se volete, gravi, che sono quelle che il CAS fino all'insediamento di questo governo regionale, perché come è giusto che sia, non parla mai di quelli che sono stati i suoi predecessori, perché è giusto che sia così, il CAS era un foglio di carta intestata. Cioè significa che non c'era nessuna organizzazione all'interno. Una scatola vuota. Perfetto, piena di debiti, fra l'altro, lo sappiamo tutti. E quindi anche l'ordinaria amministrazione non veniva fatta, sappiamo benissimo, lasciamo perdere quello che è successo negli ultimi dieci anni, io non vado in un ritroso, però se tu entri in un'amministrazione, un anno fa, perché il governo Musumeci si è iniziato un anno e due mesi fa, e trovi niente, una scatola vuota, non puoi fare nemmeno l'ordinaria amministrazione. E da dieci anni che non si fa, queste sono le conseguenze delle nostre buche, delle nostre autostrade a 18 e a 20. Francesco Ulisi, si attende allora questo cronoprogramma, ma ovviamente si attendono anche le risorse. Come diceva Saro Trischit, ci vogliono tanti soldi, ma in questo momento la regione non è che stia vivendo un momento abbastanza facile. Sì, stiamo aspettando questo cronoprogramma dove ci sono già pronte sei o sette gare d'appalto, alcune già appaltate, alcune che dovrebbero partire. In più c'è un'analizia importante, che la gara d'appalto della frana di Letoianni, che ormai è diventata il simbolo della vergogna del CAS, dovrebbe essere appaltata a fine marzo, primi di aprile, e i lavori dovrebbero partire a settembre, massimo ottobre, due ranno 24 mesi, e già questo qua è un appuntamento che hanno preso, e quindi che noi continueremo a vigilare e saremo sempre pronti, non abbasseremo la guardia, questo è poco ma sicuro, e a essere sempre a contatto con l'assessore Falcone, che ci ha garantito mensilmente un incontro dove faremo il punto dello stato delle cose. Quindi massima fiducia su questa cosa qua penso che non potevamo avere. Saro Rischitta, gli organismi diretti, il presidente del CAS, ovviamente l'assessore Falcone, che sono i tecnici della situazione, quale garanzia hanno dato, oltre a quelle del presidente? Ma io credo che quella che ha detto adesso il collega Puglisi è la cosa più eclatante. L'assessore Falcone ci ha dato appuntamento già entro il 20 febbraio, ci vedremo qui al casello di Giardini di Roccolomera, vediamo dove, e una squadra dei nostri delegati, vedremo, deciderà poi il comitato chi, andrà insieme a lui a fare una supervisione su quello che sono i lavori che sono stati fatti in questi 20 giorni e i lavori che devono essere fatti. Qui parliamo di numeri concreti, io voglio fare notare questa cosa, è successo purtroppo adesso il martedì, il 5 febbraio, che è arrivata questa alluvione, questo temporale che ha danneggiato, ha allargato, perché non ha creato i buchi, ha allargato i buchi che c'erano sull'autostrada, che già c'erano, non si sono allargati. Però, se noi domani mattina, perché qua stiamo parlando che domani mattina, venerdì 8, 9 e 10, stanno intervenendo per asfaltare un chilometro di strada, significa che questo intervento era stato programmato prima di questa apertura delle buchi, quindi il CAS già si era messo in movimento, perché il presidente Musumeci l'ha detto quando è stato qui a Fiume di Nise all'inaugurazione della fiamma del gas, per chi ha avuto la possibilità di intervistarlo, ha detto che già il CAS praticamente dal primo di gennaio era ritornato a essere operativo. Qui ci sono 6 gare d'appalto, con i soldi già finanziati, con i finanziamenti pronti, non con soldi, parliamo di soldi che si devono andare a cercare, finanziamenti con i soldi già appaltati. Si parla di fare l'illuminazione di tutte le gallerie presenti sulla 20 e sulla 18, di darle in progetto e finanza, quindi sappiamo benissimo che a quel punto arrivato, quando entra il privato, avrà tutto un interesse a curare la galleria e a quel punto arrivato puoi andare dal privato a dire, amico, guardi che si è forminata una lampadina, dobbiamo cambiarla. C'erano 4 interruzioni, ha detto l'assessore Falcone, di cui 2 in questi ultimi 3 mesi sono state tolte, si riferiva a quelle di scaletta. Entro 30 giorni verrà pulita la soletta della galleria Paramassi che c'è sulla zona di Dalla Scaletta, perché è piena di terra da oltre 10 anni, è mai stata pulita e quindi pericolosa per il sovrappeso e per le infiltrazioni. Io dico semplicemente, questo comitato è 3 anni che dura, che va avanti protestando, raccogliendo consensi e le opinioni di tutti. Adesso è 3 anni che ci stiamo, stare 3 anni e 2 mesi ci crea un problema, cioè ci hanno chiesto un po' di fiducia e ci hanno chiesto di stare tranquilli che i lavori verranno fatti a 3, 10, 30 e 60 giorni. Noi saremo sul fiato sul collo e credo che nel momento in cui le cose non verranno rispettate saremo qui a denunciare quello che non è stato fatto. Concludiamo, Francesco Puglisi, al di là di quelle che sono le mancanze di manutenzione soprattutto per quanto riguarda le buche, la mancanza di luce nelle gallerie, ci sono dei problemi strutturali, io ho fatto in questi giorni sia la Catania Palermo sia la Messina Palermo e ovviamente ci sono tanti cantieri ma soprattutto ci sono tanti sensi unici, alternati che ovviamente ci sono mancanza di strade vere e proprie e di ponte. Il Presidente come fa fronte a tutte queste risorse? Noi per quanto riguarda tutti questi interventi noi abbiamo preparato delle richieste ben precise come la galleria del Tindari, la galleria di Brolo che sono a una corsia sola perché mancano sistemi di sicurezza. Noi naturalmente a queste richieste che noi abbiamo fatto loro ci daranno delle risposte quando arriverà questo cronoprogramma. Abbiamo attenzionato tutte le cose che ci sono sia nella 18 sia nella 20 che non vanno bene e che naturalmente devono essere risolte ma con i tempi dovuti. Ci sono cose che si possono risolvere in 30 giorni, in 60 giorni o in 6 mesi. Ci sono cose che hanno bisogno qualche anno di tempo. Naturalmente le gallerie è la cosa più grave di tutti quindi devono essere messe a norma, sono più di 40 eccetera eccetera. Quindi c'è un discorso un po' più lungo. Noi, ripeto, noi siamo fiduciosi in questo anche perché deve partire la pavimentazione che dovrebbe partire entro l'anno. A settembre partirà anche la pavimentazione di tutta la tratta, giarre, tre mestieri, tre mestieri di giarre. Tutto quanto il verde è stato sistemato. Quindi a questo punto noi ormai come ha detto Saro abbiamo fatto 30, facciamo 31. Sono tre anni che denunciamo, che facciamo video, che facciamo proteste sempre su Facebook e in modo carbato e adesso siamo riusciti ad arrivare diciamo alla testa dell'acqua. Siamo riusciti ad essere ricevuti dal presidente Musumeci grazie anche all'impegno di Saro Descritta e quindi abbiamo questa fiducia che ci porterà a dei risultati. Se non arrivano i risultati noi scendiamo in strada, questo è poco ma sicuro. Quindi non abbiamo preso in giro che magari qualcuno dice pensa se sono le solite riunioni, le solite parole, le parole se le porta via il vento e tutto finisce là. No, non è così. Noi siamo rimasti che se i risultati non arrivano, come ci hanno detto loro e come noi pubblicheremo fra qualche giorno il cronoprogramma, se non arrivano quei risultati noi scenderemo in strada. Questo non ci piove. Questa è una cosa sicura perché ormai la misura è colma. Quindi detto questo... Il Presidente ci ha garantito che sarà con noi. Sarà una risita, gli automobilisti sono stanchi. Io non vorrei che il Presidente invece cercherà dei fondi a livello magari europeo, a livello statale. Questi fondi non arrivano e ognuno se ne lavano le mani. Il Comitato è pronto, cioè anche a qualsiasi altra iniziativa visto le proteste che ci sono anche da parte di tantissimi automobilisti. Il Presidente ci ha detto, sua viva voce, che se noi dovessimo decidere di scendere in strada e protestare, sia lui che l'assessore Falcone saranno accanto a noi. In qualsiasi tipo di battaglia vorremmo intraprendere. Anche quello del blocco autostradale che ti ho detto sai cosa significa. Però ti voglio dire, lui, la cosa che in più mi ha sorpresa ma mi ha sorpresa soprattutto detta dal direttore del Cassa. Per dire, hai detto poco anzi che trovi tutti questi viadotti. È stato fatto uno studio in questi tre mesi, negli ultimi tre mesi di tutti i viadotti che ci sono sulla 20 e sulla 18. E ne hanno trovato 15 in condizioni serie di cui tre gravissime. Ci ha detto questo direttore. Naturalmente non ci ha detto quali sono. Quindi questo significa che qualcosa già si è mossa, qualcosa è stata fatta. Per quanto riguarda il tappetino, il tappetino in alcuni punti sarà addirittura riabbassato di 40-50 centimetri perché per mettere poi, come sappiamo, l'asfalto drenante non puoi metterlo su quello che c'è. Quindi dovrà essere scarificato per bene e ci sono dei punti, delle zone dell'autostrada purtroppo dove ci sono 20 anni di asfalto messo sopra a 5 centimetri alla volta e quindi non possono lasciarlo. Quindi queste sono delle piccole garanzie. Io capisco che possono sembrare una presa di tempo da parte della direzione del CAS e della Presidenza per farci stare buoni. Però nel momento in cui ti dicono giorno 20 febbraio ci vediamo per fare un sopralluogo sull'opera. Nel momento in cui il Presidente della Regione dice fra 60 giorni precisi noi organizziamo un'altra riunione operativa qui in assemblea a Palermo per capire quello che è stato fatto, quello che c'è imminente da fare e quello soprattutto che si potrà fare a lungo termine. Parliamoci chiare. Lui ci ha detto che in due anni consegnerà alla Sicilia due autostrade degne di questo nome. Ora io non voglio essere di quelle che si è corretto l'uono e diceva ci riuscirà. Intanto ci comincia a dare delle garanzie nell'immediato che sono quelle del progetto che sta iniziando domani mattina. Non potevano mai e poi mai programmare un intervento da martedì a venerdì. Quindi si capisce che era un intervento programmato prima, quel chilometro, un chilometro di asfalto su tutta la gareggiata e capisci che però creerà dei servizi nel Comune Ionico. Infatti siamo stati attenti a dirgli, avvisiamo i vigili, avvisiamo tutto quello che si può fare affinché il traffico veicolare possa subire meno ritardi possibili perché capiamo che c'è gente che va all'ospedale, gente che va all'aeroporto, gente che ha le proprie esigenze, gente che lavora, quindi è giusto. Qualcuno dice perché non lavorano di notte? Perché per scarificare purtroppo di notte viene difficile perché non si vede cosa si va a toccare. E soprattutto gli impianti d'asfalto non sono aperti la notte, è difficile fare l'asfalto caldo di notte. Quindi ci sono delle cose che magari chi sta dietro a una tastiera è bravo a comunicare ma poi non capisce la stessa cosa. Senza contare un'altra cosa che ci ha detto l'assessore avevamo programmato degli interventi super veloci per fare un intervento 24 su 24 quindi fare tre squadre da sei ore, da sette ore ciascuno, da otto ore quello che si può fare. Dice sapete quanto costa fare la terza squadra, il doppio di quanto costano le due squadre? Ci conviene, conviene prendere qualche mese più. Abbiamo fiducia a tutti quanti. Noi come Gazzetta Ionica saremo qui ad informarvi sulle volverse delle situazioni e ovviamente saprete che c'è un comitato e quindi anche attraverso Facebook sarete informati anche non soltanto dalla Gazzetta Ionica ma delle volverse di tutte queste situazioni che ci sono perché alla fine poi la mancanza è sempre non soltanto dell'organizzazione ma se non ci sono fondi non si va da nessuna parte. Speriamo che queste risorse il Presidente della Regione li potrà trovare e alla fine finalmente avremo un'autostrada degna di dare nome.